Si preparano Cenerese Kevin e Bisello Simone, finale primo e secondo posto. Vince con Contate, si classifica al terzo posto. Con Contate, si classifica al terzo posto. Si, si classifica al terzo posto. Sì, se classifica al terzo posto. La mia mamma è la mia mamma. Si, che cosa? Si, che cosa? RAPLE! 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 Adattami Freda Manuel e Minsky Delic RAPLE! 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 Vai, 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 vai!